Amici del gusto e dell'odio verso i ne... Oggi siamo su una mappa di Simson natalizia Sì, sono finito... Anche noi facciamo questa cosa Sì, la sommata natalizia Che bella la vita Ovviamente è abbastanza strano tornare a fare video dopo È un pochino che non ne faccio Non gioco nemmeno con Zombies Però oggi siamo anche con Forvo Così Forvo, che non porto sul canale da abbastanza Mi farà accompagnare in questa impresa Guarda che bellino Forvo, ma sei vestito di rossa? Anche tu No, bro Ma perché la tiene con una mano l'arma? Sembra un nazi skin No, aspetta Vediamo un po' com'è questa mappa Io direi che forse dobbiamo iniziare a controllare le porte Mi sono dimenticato come si gioca a Zombies Qua è la 750 Ovviamente non aprire, non sia mai No Tra l'altro io non so nemmeno sia il cap degli FPS Probabilmente sì, è soggiornato a 60 FPS su un modito al 144Hz Però va bene così Ma sì, scialla bro 1050 per aprire là Questa è sicuramente... Porca troia Qua c'è... Questa è una soulbox Quello mi sa che è uno shootable Sì, infatti c'era una DAF qua sopra che era uno shootable Ok Ok Non frega un cazzo Ma però... Sto costo se... L'ho detto, è una soulbox Sì, sì, l'ho detto prima io Mamma mia No Paolo, mi devi proteggere da dietro Ma che cazzo di pippa? Ma se da dietro, ma se arrivano solo da un lato Il mio... Il mio... Cioè, il mio anno Io ho aperto qua 1050 C'è la gublegum E il padre più... E il padre più Bello Vuoi un add Flanders? Non c'è 5000 lì per aprire Allora io mi sa che mi prendo qua la Grisgan Ma no... No, non ho il tasto per cambiare arma Vabbè, non lo utilizzerò Niente Ho riscaricato Black Ops 3 Visto che ho dovuto switchare l'SSD Ragazzi, non ho più un cazzo di tasto Niente settato Neanche la mia sensibilità Quindi... Molto buono Se perdiamo è colpa di Paolo Se perdiamo è colpa di Carlo Ma chi ha dato il cazzo in culo qua? Aspetta, fai punti tu così apri Prendi questo zombie cache Ottimo E io mi faccio una gublegum Che cosa ho? Che merda Sono un gublegum schifose Signori Grazie delle anni Buon Natale Buon Natale Buon Natale Ricordiamo che lo stiamo pre-registrando a novembre Sì, sì, sì A novembre Potresti aprire qua, Tonella Grazie Subito Così riempiamo quest'altra zombie Andiamo al... No Da Mose Non ci possiamo andare Sì, 2000 costa Anche se la zumba natalizia, signori La facciamo ormai da molti anni Anche noi Però penso che siamo gli unici stronzi Che la stanno facendo alla vigilia La zumba natalizia Io dovrò mettermi... Ma che cazzo c'è arriva a pubblicarlo dentro domani? Ma tu prendi e carica tutto Ma io lo prendo e lo carico così per intero Ma sì Ma tanto non è che succede qualcosa Certo, a parte il fatto che hai già fatto Otto affermazioni naziste Da quando hai iniziato Sì, ci piace Perché oggi è la vigilia Questo video dovrà uscire da oggi Fino a... 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 Sette gennaio Fino al sette gennaio Sì Ma in che senso? Cioè tu lo sai che i miei video escono tutti insieme, no? Tutti insieme Ogni giorno un video Qua c'è il jug È un'altra daff Che cazzo sei? Eh, ho aperto la labbra Qua dietro non ci posso andare Ma ma è bidimensionale Ma ti sei messo a dieta? Ma mia Ah, non ci passare Non ci passare che è la lava Che mi sono scottato i piedini Poverino, vieni qua Non me li leccare Cioè, oddio In realtà non è che così Oh, è la tannazuka Ti rendi conto che devo cambiare arma con la rotellina O con l'uno? No, nemmeno con l'uno Non c'è proprio il tasso Con la rotellina per forza Ma st'arma comunque C'è la pistolina iniziale Comunque vorrei ricordare che Gli zombie sono tutti i bulli Dei Simpson Infatti non mi Non mi sento per nulla In colpa a ucciderli male Ricordate sempre Ragazzi I bulli vanno ammazzati Oh, mi disso Cioè nel senso Vanno rieducati Nel gioco Sì, sì, sì Rieducchiamoli con le pistole 1750 Qua c'è il camioncino Quello con cui rapiscono i bambini Ok? Chissà che ci sono i bambini dentro Comunque è in 2D questo mondo Bello, mi piace Dove cazzo lo vedi in 2D che è 3D? No, no, bro È 2D Ti stai confondendo con il 4K Porvo, ma è mattina La mattina è la vigilia Che cazzo ti sei fumato? Sono svegliato con la sveglia alle 9 Sì, bellissima Bella sta minchiata Poi ho detto Ma sai che c'è un vaffanculo Paolo ho avuto inizi di dormire Che stronzo Io c'ho 5000, bro Ok, aspetta che adesso mi faccio aprire Oh, il candy cane Ma che è? Uh, la posso prendere Ammazzate gli zombie con la bastoncino di Natale Ma secondo me Non fa danno Allora, là sotto in fondo Devi aprire Adesso arrivo Ma non posso aprire A posto andiamo Secondo me sta cosa non fa minimamente danno Secondo me sta cosa fa Fa, fa, fa E' uno dietro Scatopush Ma non fa, fa schifo Allora Per ammazzarlo No, no, no Penso che non lo utilizzerò No, ma è tipo un coltello Mancato Il coltello dei poveri Sì Cosa che schifo i poveri No, Paolo No, no, no Buon Natale ragazzi Buon Natale Buon Natale Buon Natale E felice anno nuovo ragazzi Non prendere la bomba Che se no ti viene il tuo mondo Ah, ok Uh, ma qui c'è l'STG Uuuuh Si gode L'STG andiamo No, no L'STG Qualcuna ha detto Uh, uh Ricarica, 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 ricarica Ricarica 6500 per aprire qua Ma siamo pazzi Ma che sono sti prezzi Quella zomba di natalizia A me non mi sembra tanto Natale Cioè non c'è niente di Natale È Natale È Natale Fra questo è il Natale meno Natale Che abbiamo mai vissuto Apri tu Natale è Natale No Io non faccio niente 6500 Coglione 2500 Vabbè apriamo qua Vediamo cosa c'è Uh La corrente comunque No bro È tutta un'illucinazione Un'illucinazione Sì sì È tutta Tutta Lucia Qui c'era il Wuswu Sì 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 Il cazzone Perché gli zombi sono così lenti Abbiamo il fermatempo Qui abbiamo un'altra cosa da fare Capito Cosa? Dobbiamo uccidere gli zombi Qua dove sono io Comunque è bello Sì pure qua dove sono io Quindi tu fai quello Io faccio questo Non l'avresti mai detto No Cioè ma Neanche mi utilizza il cazzapase Lo uso col cazzapase Il cazzapase Cioè nel senso Se ha coltello col bastoncino Non me lo Cioè non mi bastone i zombi Se non c'ho il bastoncino in mano Ricordiamo il bastoncino Allora Numero uno Le dimensioni non contano Numero due Lo dicono quelli che c'hanno il cazzapase Comunque ragazzi Buon anno Buon anno Buon Natale Perché sicuramente siamo arrivati No che è buon anno Ma buon anno Ma cinque minuti sono passati Ma che cazzo dici buon anno Buon anno Buon anno Ma tu lo sai Sarà un video unico lo sai no? Che video unico? Non sarà una Ma non so Zombie Best Bro Basta Che è nominare altri youtuber Che non ti appartengono Ma io ti brucio casa Comunque Cioè te lo giuro Io ti brucio Cosa devi bruciare? Stai dicendo che sei un piromide? Sì Bravo anch'io No bro Quanto godo Mamma mia Quanto sto godendolo Anch'io sto godendolo Cioè con l'ista Che legge su Cristo avevi Se sei proprio una pippa Le pippe Magari Oh c'è Natale C'è Natale C'è Babbo Natale Eh infatti 6500 Stupita donna Madonna 6500 Per avere pure là Ma tutte 6500 Ma cazzo Dovete aprire tu A 6500 Dovete aprire io mo Ma c'hai più punti tu Ma vaffanculo Ma vaffanculo Dovevo andarcene Mi sa Alla stazione termonucleare Incredibile per Andiamo Pensi? No non posso Non puoi Non puoi Io apro qua Ah ok Forse è qua che è la corrente No non è qua la corrente Cazzo è la corrente Ma perché gli zombie spawnano Dentro i container Ma che cazzo Non è vero bro Tra le stg ci sta 4 decadi Per ricaricare Ah vuoi vedere un escape? Vediamo se ancora mi ricordo Come si fa No La risposta è no Perché me le insoppi? Vabbè grazie Ciao Guarda faccio pure una cosa gentile Prendo zombie blood No dai Come cazzo hai fatto Non morire Oh dietro di te Dietro di te bro Somma da Natalizia Somma da Natalizia Somma da Natalizia Vai vai Anche lui voleva partecipare Siamo riusciti Ad uscire Cosa vai per permetterti Quest'auto Prendo le fg42 Cazzo ne poto Qua non si può aprire comunque Oh andiamo ad aprire quella 6500 là Sì bro arrivo Però scusami Anche tu sei un po' ritardato No non puoi dire queste cose Non le puoi dire Non le puoi dire Paolo No ma non nel senso che sei ritardato Nel senso che sei proprio un disa Sono fortissimo Sono Paolo Io c'era Ok Mamma mia se ti rianimo C'ho proprio C'ho proprio Cazzo piccolo Vabbè quello in generale Comunque non ti rianimo Sono morto Ciao È stato bello Ciao Ragazzi buon anno nuovo Buon anno Appena vai a terra Spezzi il video Ok Ridiamo buon anno Sei proprio una pippa Mi ha fatto a morirci Poi pubblichi il video Nel finale con buon anno Però raga Paolo veramente Non è inguardabile È inguardabile Cioè mi usa per fare questi video Mi ha rotto il cazzo per tutto Agosto Dovunque E poi Ha iniziato a Più o meno giugno Inizia a chiedermi Di fare il video Della zombata natalizia Giusto Ti devi fare la zombata natalizia Comunque è abbastanza easy Sta mappa Che ne pensi tu Quattro a terra Ragazzi È easy Proprio easy Cioè ve la consigliamo Quindi andate da Primark E comprate anche voi Questa mappa Dove? Da Primark Non mi mancava questa Ma dove cazzo è la corrente? È in qualche casa nascosta La corrente Ce l'ha in qualche casa come i soliti Eh ce l'ha in un culo Cosa Qua forse che c'è scritto Un culo a storia dal radio Giusto No qua c'è Magari c'è il municipio Qua c'è il municipio che non si può aprire C'è la K74U però Ci sono le cappelle nei municipi La stazione di polizia Non penso I Britney Spears Brings Oh ma mazzalo Ma aspetta mazzalo Qui c'è l'endgame Tiene uno bro E qui c'è La prison La prison Er general hospital No è la prison Cazzo C'è scritto Qua grosso C'è scritto Preason Mamma mia Oh la cassa Oh doppi punti Aspetta che me lo schiaffa fortissimo nel culo Mamma mia Paolo No comunque non c'è Dove apri Cioè non c'è Er correndo A corrente Comunque questo video sarà veramente Molto stupido Sì come tutti i video che abbiamo fatti insieme Forgo No ma questo è proprio a livelli Astrogeni capito Che cazzo di cosa è un livello astrogeno Ragazzi buona Befana Buona Befana a tutti Ragazzi buon carnevale Tanti auguri Buona Pasqua Siamo arrivati finalmente Nella speciale Di Capodanno 2024 Mamma mia quanto sei cute No bro perché mi dici cute Ah 50 qua la porta costava Io non per dir niente però Ah ti brucio casa mamma mia Dobbiamo fare Hunger Games Ok Su COD Non lo so così Ci piace Ah tipo tu intendi tipo Non lo so come se ci fosse una modalità Battle Royale Magari che dici Chiamiamola Warzone Deve esistere No deve esistere Cioè non hanno mai Tipo un deathmatch in una squadra Ecco La dobbiamo inventare noi È tutto divertente Bellissimo Strafico È tutto quanto Bella la mappa di Simpson Però do cazzo sta la corrente Scusa I Simpson Assozione di polizia 2005 per aprire pure No dai Non insultare i 2005 però Cioè No i 2005 le vogliono bruciare No Paolo Siamo sulla piattaforma Bianca Non siamo su Twitch Qua posso respirare Senza che veni bannato Anche se non ho le dette Sì ma siamo sulla piattaforma Siamo sulla piattaforma Quella Capito Sì sì Quella bianco blu Cazzo è l'usas Ma è gratis Non è gratis È un bug È un bug È un bug Qua c'è la 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 bibita quella che 1250 Secondo me dobbiamo aprire un'altra porta Aspetta perché io ho finito totalmente tutto Bello Fammi ammazzare l'ultimo zombie Io devi ammazzare poverino Io devo Prendiamoci la Cappino 74 Tu Tu che hai 8000 cazzo di punti Vuoi cercare la corrente insieme a me Apri sta porta Stupido Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Perfetto Andiamo in un altro posto Prova ad aprire Gulpen Blow And Suck My Dick C'è la corrente? No C'è una Dimensione Un voltale Eccola No Non c'è la corrente Ma che cazzo dici? Gisugia Ming Oxalga Noi fondamentalmente Noi stiamo qui È finito il gioco Ragazzi allora Questo speciale di Natale è finito C'è concluso Non puoi sparare gli zombie Coglione Coglione Tra ma non uscire Non uscire Che mappa del cazzo È finita Passate delle bellissime feste Ragazzi adesso è il cappellino bianco però Sei Mamma mia quanto cazzo Sei stiloso Ma questo bro Sembri tipo Quei vecchi estremi Andando al cantiere no? Eh no bro Non possiamo ricominciare adesso È finito Cazzo dico Dobbiamo fare gli auguri Dobbiamo fare gli auguri Ma perché non ti ammazzi tu gli auguri? Allora Queste le mappe si finiscono Dobbiamo trovare la corrente Ma a che parte ci mancavano per la corrente? Io che cazzo non mi scusi Allora per la corrente Sicuramente non è in chiesa Abbiamo detto Ok Qua non abbiamo controllato Ma qua non si può Qua 1.5 Qua Aspetta che mi faccio i punti Tranquillo Ho ricaricato Vengo io Era meglio l'altra pistola comunque Ragazzi siamo ufficialmente arrivati a Siamo arrivati? Eh Eh Allega Qua è la corrente Bravissimo Ho detto bro Io c'ho ragione in tutto Mamma mia Fra sei fortissimo Allora adesso apriamo da Moz Che c'è il Juginog L'unica porta che non abbiamo aperto L'unica porta che non abbiamo aperto E grazie al cazzo Non abbiamo trovato Vabbè la prima è per bambini La prima è per i bambini Ah bambini ricordatevi sempre Babbo Natale non esiste No questa forza la devo tagliare Ma che taglia? Non taglia niente Ma per anni 2000 Tu che sei quello forte Apri la Moz No bro sei tu quello forte No io sono Paolo Orco cane Orco cane Orco cane bastardo Questo speciale di Natale Eh Io non so più che cazzo dire Paolo Speciale di Natale in silenzio Che devi dire Ti augura buone feste Cazzo non è uno speciale di Natale Buon anno Buone feste Buon anno Buone feste Sì Sì Ma che cazzo hai fatto? Fra sono Thor Apri qua tu che c'hai 2000 punti in più Ma perché Quanto sto godendo Quanto sto godendo Quanto sto godendo Io mi prendo pure l'FNG9 Ricordiamo che I Simpsons sono tutti minorenni Sono tutti minorati Buon Natale Prendi sto sangue di zombie a coltella Eh Io posso darci l'inqua Dimmi quando ti sta per scadere Che te li devo Io questa scena la vorrò vedere Ti sta per scadere Sì vai Bella questa arma Bellissima Per nulla fastidioso il minino Penso che non minerò mai più Ma tu Ma che cazzo è? Un LSAT ricarica più velocemente Paolo ricarica Eh sì aspetta Ammi tre decadi Mi sono nascosto Non mi troverai mai Vabbè Ho trovato il pp90 Che non è un pp90 È un ppbison Qualcuno ha detto Vaffanculo a mammota Dobbiamo andare alla prison Che c'è la speedcola Ah non è la prison Questa è la general hospital Guarda C'è scritto general hospital Grazie alla minchia Ti sto dicendo alla prison Ma vaffanculo va Ho comprato l'MP7 Oh madonna che goduri All'MP7 Mamma mia che arma Oh sì Oh sì Aspetta un attimo Che a Natale c'è di bianco Oltre altre cose Cioè Tipo Non lo so La panna La lana Le pecore Aspetta la lana Le pecore No Paolo Quella è grigia Ma che problema No fra Fatti controllare C'è un po' È grave È grave quelle cose Si scherza ragazzi Si scherza Buon Natale Paolo ma Capito No Devo capirlo Eh sì Ma hai sparato alle duff Non presenta quello Bra Hai ammazzato Il bro Bra la papera Il duffi look Qui comunque c'è una porta Non l'hai aperta Dopo 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 Andiamo di nuovo al paca punch Mi raccomando Eh sì Prima però apri la porta da 6500 Però ma anche no Non lo farei vero No Perché devo Devo andarmi a prendere le mie I miei Oh cazzo Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Eh grazie Vabbè mi dispiace Ma io penso che ti lascerò morire male Perché è questo che fanno i veri amici Giusto fra Vabbè non è un problema Non sei mio amico Giusto Allora 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 Io ho aperto la porta da 6500 E qui dietro c'è un Un Carlo È vero ma abbiamo dato il nome Agli uomini marzapene No I marzapene Poverini Ma quando si va a reggere L'insegna del Krusty Burger Burger Sburger Ma è in 2D bro Il Krusty Burgaz Ma dove l'ultimo zombie Ma che cazzo l'hai Ha zoppato Attento che muore Eh sì L'avevo a zoppato Per dire è una fase molto brutta Però non voglio che Editi quindi No no Io Editerò Già non la posso lasciare così Sto video No ma che cazzo te frega Ma è una fassulo va Poi sono più belli i video editati Così io lo guardo tutto Bastardi Se vedete questa Ma tu devi guardare Buon anno In questo punto nel video Vi ricordo di iscrivervi No comunque davvero Cioè io è tipo Increibile il quantitativo di canali A cui sono convinto di essere iscritto Ma non sono iscritto Cioè ragazzi Se siete convinti di essere iscritti Ma non siete iscritti Avete proprio la mamma putt Ragazzi ricordiamo Che questo speciale di Natale Se vuoi partecipare anche tu Il prossimo anno Invece un'email A Forvo Chiocciolagmail.com Vabbè niente Ciao bella Se beccamo Dove cazzo sta la speedcola Si Ora non faremo il deficiente Lo so Non lo faccio Dov'è che stava la Stamina Ecco la quale Mp7 Perfetto Sento Lascialo ultimo Si Lascialo Te lo giuro Comunque questi cazzo Di muri invisibili Non è possibile Mamma mia Quali muri invisibili Non è possibile Non ho trovato ancora Ci sono una marea di muri invisibili Eh si si Brutto Brutta questa cosa Il gioco deve essere free to play Cazzo No Quei muri invisibili Che vanno pagati Giusto Eh Figlielo Tu non vuoi fare fino carico Si Non dovevo Eh Voi fare prima no No Comunque la mappa è abbastanza grossa Come il mio No Come il tuo No 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 infatti Ma vabbè fammi un po' capire Volevamo finire Volevamo finire Ma c'è la cosa L'endgame Che fa non lo vogliamo comprare Andiamo Mamma mia Ma sei proprio ma svogliato Ho 35 minuti di registrazione Ma tu lo sai quanto registro io di solito Da solo Io le mappe le finisco Io le mappe le finisco Io sul mio canale Non le porto le mappe Incomplete Ma se le hai portate un po' Io ho bisogno di prendere tutti i perk Ma la fanghiva La sommata natalizia si fa porre Correttamente Bisogna prendere tutte le La sommata natalizia si fa Ma ho su Five o su Kino del Totem Allora ma natalizia se sei zombie Beh se la fai con Francis Però vabbè Però vabbè Eh io no Io non sono zombie Io sono Palm Ok Tu sei Paolo Io sono Paolo Maresciallo Maresciallo non ci prendi Oh un'altra Duff Aspetta che qua c'è un indiano Che mi guarda storto Che cos'è il Pechpecheneg Forvo siamo fottuti Forvo siamo fottuti Spara Non so quanti colpi tu abbia Però io ho una minigun Sium E io ho finito Siummato il siummato E spara un po' tu va Cioè che cazzo No a pezzo di merda era mio Allora qua c'è un Max Sam Ok Ehm Skinner Ah qua c'è un Duff Certo che tu proprio non li spari Ragazzi in uno No non mi piace Ma perché mi sa che ci dà specializzato Se ammazzi Cioè se ammazzi tutte le Duff Ah di qua si apre comunque No non si apre Ah si sblocca Mi sa che con le Duff Visto che questa porta non si apre Ti sblocca questo Quindi se vogliamo finire Dove l'hai presa? Occhiolino 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 Beh sostanzialmente l'ho presa Vabbè sì Non mi piace No allora forse con le Duff C'era specializzato Ma dobbiamo riempire tutti i Omini di Marzapene Sta nella prigione Vabbè apriamo nella prigione Qua c'è un'altra Duff Ok presa E' finita Che è questo? 200 Cosa 200? Quello 2.000 Framm Bello di leggione No a me c'è scritto 200 Aspetta qua dobbiamo riempire i Omini di Marzapene Ma che Marzapene Marzapene? Perché poi se non li riempiamo non possiamo aprire Aio Oh ma se è finito sto coso? E il mio è finito le Ma io non so se è finito il mio Ma qua 2.500 per aprire Sì io sono immortale per ora Per fortuna che ho il bonus Però io vorrei uscire qua Tanto lì non mi pare che ci sia una Duff Me li metti Vieni da me per favore così finiamo sto coso Sì arrivo Pammorino Frottonino amoroso l'hai finito Tutta ta ta Ok Ancora ci mancano altri Omini Non uccidere tutti i Omini Lasciane uno magari Ok Ok c'è un altro Omini di Marzapene da riempire qui in mezzo E qua c'è il Gunnish Blow and Blow Ok dove c'è il Jug E c'è il Jug Il Poca Punch Oh no sono entrato nel Pagapanci Ma adesso quando esco mi sciottano Sì Eh madonna Entrare nel Pagapanci comunque è un suicidio Ah mo' di riporto tutti là No no è un parto Lasciane uno sempre Da fra No ma come Ma avevo detto una cosa Vabbè dal prossimo E ho capito Riempiamo gli Omini di Marzapene Tu riempi quello che sta lì Vabbè Lì in mezzo Lì in mezzo ce ne sta uno Ma dove cazzo lo vedi Oh madonna ma sei proprio scello Ah eccolo Io sono Romano perché so di Roma Io sono Paolo Quando vedo una donna Io spacco il perizoma No bro No bro Tu non lo stai facendo L'ho fatto io Va bene All'istante Lasciane uno Ce l'hai uno No aspetta 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 Ok c'è qua No quello dietro Vabbè ancora ce ne stanno Non uccidere Non uccidere È possibile Cerca di azzoparlo Ok qua ci sta Un altro Il classic burger Il classic burger Là c'è un altro Aspetta lo apro io Ok Perfetto Lasci il duffiluff Ok cavolo manca Mi ha chiuso Mi ha chiuso Ok no Minimarket Presa io Perfetto Tutte le gun Sono state shottate Oh ma ce ne sta un altro Uno No un altro Perfetto Adesso che tutte le cans Sono state shkanzate Ok si No non si è aperto l'endgame Quindi sarà successo qualcosa Cazzo è successo con le Boh mo chiedi a me Ce l'hai lo zombie? Sì Ok Fammi controllare sul workshop Mamma è molto Guardate Guardate Ti giuro Allora Facciamo l'easter egg Mentre che ci siamo Vai Fallo tu Ho letto come Come si fa l'easter egg Ragazzi Easter egg natalizio Eeeh Tutto natalizio 1500 Dobbiamo prendere Questo poster qua Ah ok Allora devi trovare Ok il poster ci dice cosa fare Devi trovare le gallattine Poi accoltellare Oh Te lo prendi lo zombie Faccia di cazzo Poi accoltellare E accoltellati tu Da solo Eh si Poi devi accoltellare Mister Lardo E poi portarglielo a Omer E poi vai alla statua Dove c'è Ho capito un cazzo Spiegati in italiano C'è scritto Gli miei scritti L'hanno capito Adesso glielo faccio vedere Allora ragazzi Le canne Le abbiamo già sparate Ok Quindi andiamo da mister Lardoso E lo accoltelliamo Perfetto Ce lo siamo ficcati Tutto quanto Bellamente nel culo Minchia Eh si C'è spazio Poi vai da Omer E io lo piazzi qua davanti Da qualche parte Non è Omer Che cazzo dice Che cazzo dice Che cazzo dice è questa La cazza di Omer Fra minchia Ma puoi sbagliare così Si Sonne cazzo Oh L'ha puttato L'ha puttato Ok L'ha messo qua Vedi Dopodiché devi andare All'albero di Natale Dov'è l'albero di Natale Dov'è l'albero di Natale Ah lì quello Penso A Natale A Natale A Natale A Natale Puoi Puoi sparare Di più Bruciare di più Per noi No A contelli Adesso La magic door Dov'è la magic door A veglia bollina Oh bro La magic door l'ho aperta Ah era questa Ok adesso puoi comprarla Ok perfetto Aspetta Dobbiamo fare tutti quanti I omini di marzapene Prima di prendere l'ingame Che costa Ok Per fare l'ingame Dobbiamo fare tutti I omini di marzapene Va bene Ma quanti ci rimangono di pene Sì Ah tu fai quello Ok Eh ma Do stanno gli altri Vediamo un attimo Sto andando a cercare Dovrebbe essercene un altro Sicuro Ok no Quello qui dietro L'abbiamo fatto Ah ma qua la chiesa Non l'abbiamo aperta Puoi aprire la chiesa Sto osservando lo zombie Sì ok Ho capito È bello lo zombie Però dovresti aprire la chiesa Prima che arrivi lo zombie Mamma mia Ma C'è proprio paura Ok perfetto Vedi Non c'è proprio un coso nulla No nulla Mi t'ammazzo Oh ma guarda questo Fuori dalla chiesa Voleva due spicci Ok qua c'è un altro Scarafaggio Vabbè Ma quanti ce ne stanno Mi scusi Vabbè fammo lì e via Dai Tu quanti ne hai trovati Eh io ho uno E' là apposta No ho fatto quello là E via Vai tu vai a fare quello Quello a casa tua Dal Luca Comics Io faccio questo Ok io vado al Milano E tu vai a Luca I cazzo mi ci porta a Luca Non lo so bro Veloce Siamo pronti Te la senti prontissima Riusciremo A non morirci male Lo scoprirete solo Allora dentro Qua spawnano Non lo so Io lo assicuro che muoio Perché qua dentro Non si riesce bene a girare Io ti avverto Si dovrebbe fare in due Tu hai presente Lo so io Mi dici Non si riesce bene a girare Qui neanche volontariamente Cioè neanche volendo No non so dove sei tu Neanche volendo io posso girare Non so dove sei tu Non ti giuro Io sono qui Non mi vedi No che non mi vedi Perché siamo lontani No siamo troppo lontani Io il lomino verde non lo vedo Lo vedo io il tuo coglione E' impossibile Tu sei impossibile A me ne arrivano Perché mi arrivano Tutti da te vanno Perché io sono stronzo Venite signori Arrivo arrivo Vedete che ti sto prendendo a testate Ok si ma Allora Non penso che abbiamo completato tutto No Manca qualcosa Eccolo Trovato Qua da me Qua da me Una casa qua Una casa qua Ok Molto Molto ads Eh ma qua spawnano porchi buttani I porchi buttani Sei pronto Paolo a morire Si io ho 40 colpi Come 40 colpi Si ma pure io ho pochi colpi Porchi buttani Dovevamo pagapanciare Mannaggia a te Io sono forvo Non sono avaro Tu sei un coglione Oh Possiamo escapare Fui yen Ma se io ti mandassi al pagapanci Eh no Fidati Però non ne vale la pena Aspetta che finisci errato No fra muori Ma guarda Sono pronto a fruttare Tutto Beh cerco di coprirti io dagli zombie Sono pronto Tu sei pronto Ma cazzo 2005 un pagapanci Ma non ci sta neanche uno Che bello Tieni gli zombie Grazie al cazzo Non mi farei morire Pagapanciamo la bellissima MP7 Oh Pensavo una mimetica più carina Però è bella l'MP7 Pagapanciato Andiamo Andiamo a vedere quanto costa l'endgame Più che altro Vediamo vediamo 25.000 Dai E meno tanto Cazzo c'ero quasi Se non Avessi pagapanciato Settordici volte l'arma Si può ancora pagapanciare Che dici Io vado a fare cassa raga Io voglio Voglio trovare la Wonder Weapon Che bella per te allora Non sai nemmeno qual è la Wonder Weapon Ah basta Basta Ma non sai nemmeno qual è Basta bro Basta Però è bellissima Sincero Oh ma qua aspetta Qua ha sponato delle cose Lo Sweet Sweeper C'è C'è dato un'arma A gratis Pagapanciato Qua Oh ma va bene Vediamo un po' Che c'è nella cassa Oh l'orsecchiotto Molto bello Porvo Dimmi E qua c'è lo Sweet Sweeper Vieni con me Vieni da me Vieni da me Perché no C'è la paura di perde Sì Perché c'è la paura di perde Perché non me la rigioco la mappa Madonna ma che è Ma è un pilo Sweet Sweeper qua Ma per comprare colpite Che sta cazzo di arma Dipende da che arma è Bella Se becchiamo L'ho trovato 4.500 Mica Che affarone Mica l'ho occupata a 4.500 7.50 Coglione 4.500 costano le munizioni Un'arma avanzata No 7.50 Guarda quanti punti hai 11.000 Ecco Bro è colpa tua Non è colpa mia di certo 25.000 Stronto Faccio prima io Ti chicco dalla partita Se lo vuoi Coglione Finito ragazzi Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon tutto Ragazzi Questo speciale di randale Ormai è finito 24 Fra 24 Come il giorno Mamma mia Come il giorno Auguri Ragazzi Grazie tutto Per essere stati In comprensione Di questo bellissimo video Per il mio canale Ho deciso di prenderlo Auguri Allora A propositi Allora Visto che siamo a questo punto A propositi per l'anno nuovo Trovarmi un nuovo lavoro Grazie Ok posso confermare anch'io Ok E poi inizierò a fare video Mai più video Basta Diciamo Evitare di farli ogni due settimane Magari ogni tre Ogni mese Ogni mese Uno al mese ragazzi Uno speciale al mese Può cercare di unire università Lavoro E fare E giocare zombie Vabbè Comunque Oh Paolo Buon Natale Buon primo maggio Buon primo luglio Buon Natale anche a te Speriamo che Ci sia un terremoto Che let Nessrota E magari taglia Comunque Vi ho voluto bene Però il canale non è mio Quindi bella Se beccamo Ciao ragazzi Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale